Dal 16 al 24 marzo a Bari tornano le iniziative della Lega Italiana per la lotta contro i tumori in occasione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica. Per l'intera settimana gli ambulatori della Lilt saranno a disposizione dei cittadini di tutta l'area metropolitana per eseguire consulenze specialistiche gratuite. In occasione di questa settimana, che porta come invito a tutta la cittadinanza, diventa influencer di te stesso e quindi un invito a prendersi cura di sé, pensare al proprio benessere con sani stili di vita, corretta alimentazione, esercizio fisico, ma anche educazione sanitaria. A questo riguardo apriamo nuovamente le porte della Lilt, offrendovi consulenze specialistiche gratuite da lunedì 18 a venerdì 22, dalle 8.30 del mattino fino alle 18 la sera. Si potrà accedere con appuntamento. Siamo orgogliosi come assessorato all'Uelfare e come Comune di Bari di essere ancora una volta accanto alla Lilt per avviare una serie di eventi per lo screening e la prevenzione. Per noi promuovere la salute e il benessere rappresenta un impegno importante che realizziamo in queste occasioni, ma quotidianamente proprio grazie a un lavoro tra pubblico e privato. Andrea, sicuramente questa sarà un'opportunità per arrivare in tutti i luoghi della città, a partire dalla periferia, agganciare anche tante situazioni di donne e di uomini che spesso fanno più fatica ad avvicinarsi proprio a screening e ai percorsi della prevenzione. Grazie. 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 Grazie.